Wow, dobbiamo tirare questa corda! Wow! È diventato improvvisamente tutto colorato! Ma ehi, e chi si lamenta? Giochiamo! Ci sta venendo l'acquolina in bocca! Prima però dobbiamo scegliere un colore! Ehi, rosa non delude mai! Beh, a quanto pare una di noi ha avuto fortuna! Devo mangiare tutta questa roba? Ci si potrebbe nutrire una famiglia di quattro persone! E poi i pancake vanno con questa roba! Sì! Solo una giustatina! Già molto meglio! E ora che manca! Della cioccolata fusa, sì! Sembra stia piovendo! Pioggia di cioccolata rosa, ecco qua! Rimane solo una cosa da fare! Il regno delle Codette, baby! Wow, guarda che roba! Ma rimane una domanda! È buona come sembra? Respira anche ogni tanto, Tina! Ok, proviamo questo pettine! Perché no? Una bella pettinata! Aspetta, sta succedendo qualcosa! Ma che cosa fantastica! Luna? I tuoi capelli! Oh, intendi la mia chioma da unicorno? Sei bellissima! Ehi, vuoi fare a cambio? A cambio? Sì, perché no? Perché pettinarmi quando posso mangiare? Ma che hai fatto? Mi sono cambiati i capelli! Non è giusto! Che ti aspettavi? Chi gira la ruota? Io non sto sbattendo le palpebre, Luna! Nemmeno io! Vedi? Occhi apertissimi! Non ce la faccio! Sapevo, avresti ceduto! Giallo giallone! Wow, è più grande della mia testa! Una vera bontà! È buono, eh? Anche io ho una cosa deliziosa, sai? Sembra divertente! Lo giro e... È ora del dolce! Aspetta un attimo! Wow! Ehi! Ma che roba è, Tina? Vabbè, io ho questa! Al limone, che buona! Ne voglio un pezzo più grande! Oh, sì! Mi serve giusto un po' di calore! È il momento di squagliarsi, amici! Ehi! Si sta sciogliendo! Guarda! Sta funzionando! Non dovrò più leccare per ore! Limonata super dolce! Ehi! Vuoi una delle mie banane? Vai tu, Tina! E? Dammi il blu! Wow! Cos'è tutta questa roba? Idee! E per me? K-Pops blu! E ora si assaggia! Delizioso! Aspetta, ma che diavolo? È un messaggio! Qualcosa su delle bottiglie d'acqua? Sono mai stata brava in matematica? Prova! Vediamo qui! Due bottiglie d'acqua, eh? Ma una è al contrario! Ora ho capito! Facciamo un bel giro! Ok e... Ok e... Via! Ora arriva la magia vera! Si sta creando un bel movimento! Le palline stanno venendo su un pazzesco! Stanno attaccando tutte su! Una tempesta di palline blu! Ehi Tina! Guarda! E ora lo giri di nuovo! Questa è la cosa più divertente del mondo! Tocca a me! No! Ehi! L'hai fatto tu l'ultima volta! Lascia! Sa che è uscito arancione, eh? Ma perché ci hanno messo il coperchio? C'è del pesce sotto! Fantaparty! Questo è quello che credi! Prenderò questa qui! Oddio! Che ho fatto? Ehi! E ora questa come la apro? Chi bella! Guarda e impara! E ora frizzantezza! Oh sì! Mi servono solo gli strumenti adatti! Ecco qua! Ora posso fare la miscela perfetta! I bicchieri sono più eleganti delle lattine comunque! Molto più buona! Elegante, eh? Ecco qua! Sei sicura che non si rompano? Rifatti gli occhi, mia cara! Ecco la punta perfetta! E pioggia sia! Che c'è di più elegante di una fontana? Una fontana di fanta, ovviamente! All'eleganza! E ora, quale dovrei prendere? Questo! Luna! No! Yeee! Ehi Luna! Giri tu? Va bene! Rosso! E vai! Wow! Carinissima questa mini macchina di gomme! Ma come le tiro fuori? Tocca a me! Ma cos'è? Una manina per applausi! Qui dice di girare! Ma non succede nulla! Ehi! C'è qualcuno? Ah! Questa proprio non me l'aspettavo! Ma non fa niente! Adoro il rosso! Brava! Ehi! Questa non è commestibile! Gira le tonna! Lo sapevo! Che sbadata! Ma che c'è che non va? Devi aprirlo, Tina! Il tappo! Oh! Te le fanno sudare! Aspre! Ups! Stavolta sta a te girare, Tina! Non si ferma più! Entro oggi! Aspetta, è il multicolor! Eccola! Beh, dobbiamo aprirla? Ta-da! Questo palloncino è un'opera d'arte! Senti qua! Wow! Questi sì che sono colori seri! E anche dei dolci! L'ho girata io! L'ho preso prima io, Luna! Dammelo, dai! Oh, le cose stanno così! Non sfidarmi! Basta! Usiamo la striscia di caramella, ok? Ok, buona idea! Fatto! Tre, due, uno... Via! Chi finisce per prima si prende la cioccolata! La mia bocca sta andando più veloce che può! Forza, labbra! Muovetevi! Ah! Come hai fatto a finire tutto? La tua bocca è molto più grande della mia! E tutta la cioccolata me la prendo io! Guarda che mostro! Guarda che mostro! Buono il sapore della vittoria! Spero ti venga il mal di stomaco, guarda! Ma dove siamo? Oh, guarda che colori! Dovremmo aprirle! Vai prima tu! Ok! Oh! Tutti i colori dell'arcobaleno! Visto? Super gommoso! E sa di ciliegia! Aspetta! Che ti è successo la lingua? Non ha niente che non va! Wow! Oh! Se ne andrà! Voglio riprovare! Mancano due colori! Ora sì! Pronta per un po' di magia colorata? Ho un arcobaleno splendente in bocca! Incredibile! Non hai ancora aperto la tua! Oh! Ok! Wow! Occhi! Sono veri! Saranno buoni! Odorano di frutta! Wow! Ci vedo viola! Certo perché hai gli occhi viola! Guarda tu stessa! Sono davvero viola eh! Ma bellissimo! Se mangio tutti i colori! Come diventeranno i miei occhi? Credi che diventeranno arancioni? O verdi? Wow! Vedo un sacco di colori! Wow! E ora divertiamoci! Siamo una coppia arcobaleno! Eccoci qui! Wow! Mai visti cubetti di ghiaccio così? E per me? Wow! È la torta più bella del mondo! Solo un assaggino! Ok! Un assaggione! Yum! Oh! Dolcissima! Potrei mangiarla per sempre! Ehi! Anche io voglio una torta! In effetti, ripensandoci, c'è un altro modo per mangiarla! Tada! Ah! Una spatola? Aspetta! Non va bene! Oh! Cavolo! Un attimo! No! Troppo piccole! Ah! So come fare! Con questo sistemerò le cose! O forse le scioglierò! L'aria calda non è mai stata così piacevole! Forza! Eccoci qua! Magnifico! Questa l'ho tenuta per un'occasione speciale! Buonissima! Luna! Ehm... Luna? No! Non la mangerò mai! Aha! Ehi! È la mia cannuccia! Mi serve solo il bicchiere! Oh! Ecco! Guarda e impara! Si taglia come il burro! E quando lo togli... Hai una torta nel bicchiere! Sto benissimo qua dentro! Ottima trovata! Ti dispiace se assaggio? Grazie! Ne ho proprio bisogno! Che succede? Oh sì! Che buona! Non preoccuparti per me! Prima io! Posso? Ok! Questo lecca-lecca è enorme! Ce l'avrai anche tu! Beh, speriamo! Ehi! Non c'è nulla qui! Non ha senso! Oh no! Che brutto! Ehi! 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 Fammi fare qualche magia! Ci sono quasi! Wow! Come hai fatto? Puoi... Oh certo! Solo un altro po' di magia! È abbastanza per te? Oh non sapevo che potessi farlo! Oh l'acuolina in bocca! Che odore! È proprio zucchero filato! Sì! E si scioglie in bocca! Delizioso! Ottimo! Lizzy? Sei illuminata come un albero di Natale! Cosa? Oh le mie mani! Brillo dalla testa ai piedi! Calmati! Hai peggiorato ancora di più la cosa! Oh! L'hai fatta apposta! Fiu! Questa attesa mi sta uccidendo! Oh... Beh... Deludente! Che abbiamo sbagliato! Che spreco di tempo! E ora che facciamo? Qualcuno ha ordinato da bere? Scusate l'attesa! C'è tanta scelta! Ehi! Oh! Ho dimenticato la cosa più importante! Guardate che bollicine! Ora saranno buonissimi! Cin ragazze! Ah! Alla nostra! Mmm! Buonissimo! Quindi posso berlo? Mmm! Anche il bicchiere è buono! Non ci credo! Devi provarlo! È commestibile! Mmm! Oh! Meglio di quanto pensassi! Meglio anche della bevanda! Io prendo la blu! Arancione! Verde! E giallo! Puoi anche mischiare i sapori! Mmm! Agrumi di vini! Yum! Potrei mangiarli per sempre! Non è stato il posto perfetto! Sento che stavolta ci andrà bene! Vediamo un po'! Wow! Non so quale sia il migliore! Scopriamolo! Dai! Guarda questi colori! Hai fame? Sto morendo! Uno! Due! Tre! Oh! Si sciolgono in bocca! Mmm! Ah sì? Aspetta! I miei non sono così piccoli! Certo! Devo solo sistemarli! Pronti! Perfetto! Ah! Ora posso mangiarli in un solo boccone! Apro bene! Forza! Oh sì! Così si fa ragazzi! Come posso competere con lei? Mmm! Mai visto un unicorno in carne ed ossa? Adesso sì! Che vi sia di ispirazione! Dov'è la mia penna? Ma come dovremmo disegnare? Bisogna inventarsi qualcosa! Qui ci vuole la valigetta degli artisti! Apriamola e vediamo che cosa c'è! Oh sì! Adesso è tutt'altra cosa! Wow! Posso usarla anch'io? Ma certo! Siamo migliori amiche, no? Vieni! Ma... Mi hai dato il bianco! Che cosa ci faccio col bianco? Non so che dirti! Ah, e che cosa mi invento adesso? Vuoi una mano? Vieni! E questi da dove li hai presi? Ti guardo le spalle! Adesso sì che posso disegnare! Ci sono! Per cominciare farò un disegno invisibile! Solo io so cos'è! Almeno per il momento! I colori non coprono il bianco! E quindi più colori metto, più il mio disegno si rivela! Ta-da! Vedete che bell'unicorno! Ma si può disegnare qualsiasi cosa! Le possibilità sono infinite! Giù i colori! Le piace? Ah, è carino! E tu, Ashley? Wow! Ma come c'è riuscita? Le ho dato il pastello bianco! A me gli occhi, ragazze! Basta chiacchierare! E ammirate i gioielli sulla mia corona! Wow, come brillano! Disegnatela! Ecco il pennarello che fa per me! Disegnare una corona è facilissimo! Un gioco da ragazzi! Ah, tu dici? Adesso ti mostro io come stanno le cose! Tutto sta nei dettagli più piccoli! Adesso possiamo anche disegnare i gioielli! Rosso Rubino, tocca a te! Ci vuole anche un tocco di realismo qui! Per fortuna ho sempre con me i miei rubini! Fantastico! Adesso facciamoli un po' più vivaci! Con un po' d'oro, ovviamente! Tutto studiato nei minimi particolari! Siamo pronti? Prima tu! Detto e fatto! Chi ne pensa? È così bella che vorrei indossarla! Come ci sei riuscita! Favolosa! Vediamo la tua adesso, Ashley! Eccola qui! Ah, potevi fare di meglio! Ma questo ti sarà d'aiuto! Non è tanto il mio stile! Pronte per la prossima sfida? Quegli AirPod sono giganteschi! Ehi, non è giusto! Dovrei disegnare con questa! Non riesco neanche a tenerla in mano! È ridicolo! Sono prontissima! Tutto perfetto! È l'ora di un piccolo sabotaggio! O forse dovrei dire saponaggio! Prova a disegnare qui, se ci riesci! Comincio qui nel mezzo! Che strano! Chi ha che non va questa matita? Non saprei! Assurdo! Tempo scaduto! Ho un minuto ancora! Ho detto tempo scaduto! Mostratemi i disegni, su! Ok! Vediamo il tuo, Jennifer! Non male! Ma ho visto il tuo trucchetto col sapone! Quindi... Sei squalificata! Sei stata tu! Ma adesso capisco tutto! Incredibile! Beh, almeno è pulito! Quindi Ashley vince gli Airpods! Non ci credo! Che suono favoloso! Ah, niente! Rilassa più di un poppito! Ah! Perché non lo disegnate? Adoro i poppiti, sì! Ok! Jennifer si è scatenata coi colori! Ma io posso fare molto meglio di lei! Mi serve solo questo! Prima mettiamo delle strisce adesive! Poi aggiungiamo un po' di tempera! E col pettine creiamo strati di colore in questo modo! Vedete come vengono bene? Molto più originale delle solite pennellate! Una volta tolte le strisce adesive, sarà tutto preciso e perfetto! Capite che intendo? Wow! È splendido! Il mio pettine! Che cosa gli hai fatto? È mio! Scusami! Che maniera! Piccola offerta di patti? Non credo proprio! Aspetta un attimo! Ok! Accetto l'offerta! Almeno ci ho guadagnato qualcosa! Viola è il mio preferito! Quindi andrà qui in cima! Adesso sta davvero prendendo vita! Sembra un vero pop-it! Carino! Vediamo, su! Ecco! Wow! Che bei colori! E il tuo, Jennifer? È un vero spettacolo! Ecco il premio, ragazze! Wow! Un vero e proprio diluvio di pop-it! Siete pronte, ragazze? Rifatevi gli occhi adesso! Guarda quei diamanti! Tocca a voi! So benissimo che fare! Basta usare tanto colore rosso, giusto? Pensa, Ashley, pensa! Jennifer, è quasi finito! Dovrò solo sperare per il meglio! Ecco la sagoma del vestito! Adesso il corpo! La magia sta nei dettagli! E adesso via col colore! Vedete? Le linee gli danno movimento! Sembra quasi che prenda vita! Niente male! Vincerò a mani bassi! Ok, forse è meglio che le dia una mano! Ecco quel che serve a ogni abito! Un po' di lustrini! Wow! Carinissimo! Adesso esprimi un desiderio! Oh no! L'allergia! Eccì! Tempo scaduto! Tocca a te, Jennifer! Bellino, vero? Molto! Ah, è del mio che dice! Oh, una vera visione! Wow! Guarda come brilla! Mi prendi in giro! Ho fatto tutto da sola! Tieni, te lo regalo! L'arte ci fa divertire insieme! Giriamo la ruota! Dove si fermerà? Un arcobaleno! Uh! Non vedo l'ora! Wow! Ma da dove è uscita? Quanti pop-it! Wow! Sara! Guarda qui! Wow! Che fortuna! Tutto qua! Una campana e basta! Ok, immagino debba suonare! Oddio! Un unicorno ballerino! Adorabile! Grazie, mister unicorno! Ciao, ciao! Cereali a unicorno! Gnom! Non male, eh? Iniziamo! Wow, non ho mai visto così tanti pop-it! Sarà divertentissimo! Non finisce più! Ce ne sono altri! Hai visto? È pienissimo! Chissà quanto ci metterà a giocare con tutti questi! Pazzesco! Ok, tocca a me! Per fortuna ho sempre una ciotola e un bicchiere di latte con me! Ecco qua! Che bei colori! Non vedo l'ora di provarli! Impeccabile! Ehm... Mindy? Tutto ok? Sto bene! Ok! Sarò da te tra un minuto! Fammi sapere se ti serve una mano! La giriamo insieme! Uh, blu! Guarda, un anello! E io della soda! Ora me lo provo! Mi sta benissimo! Finalmente ho trovato il vero amore! Mi vuoi sposare? Oh mio Dio! Grazie amore mio! È mio! Ehi! Lasciami! Nom 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 nom! Basta! Ciao! Ok, è stato strano e si è pure preso il mio anello! Quasi divertente, devo dire! Ok, assaggio la mia bevanda! Sarà buonissima! Wow, guarda qua! È super blu! E credo serva un ingrediente in più! Un po' di polverina magica! Ecco qua! Ma sì, ce ne metto un sacco! Mi serve una cannuccia! Diamo una bella mescolata! Funziona! Che bello! Yum! Eh, Mindy! Non ci credo che sia preso l'anello! Ci sono rimasta malissimo! Ho una cannuccia in più! Metto la soda in mezzo! Mindy, assaggia! Davvero! Wow, che buona! Ah! Quindi io o te? Io! Speriamo sia qualcosa di carino! Rosso! Uh! Wow! Ottimo! Vroom vroom! C'è dell'altro! Sembra divertentissimo! Chissà cosa fa questo tasto! Wow! Guarda qua! Uuuuuh! Ups! Scusa! Non va bene! Mangerò le mie caramelle! Come sono piccole! Ma buonissime! Mangerò anche le altre! Le adoro! Oh! Vorrei anche io avere delle caramelle! Credi tornerà! Aspetta! Aspetta! Anche qui ci sono! Non me ne ero accorta! Ora le assaggio! Ecco qua! Buonissime! Ehi! Questo di chi è? Oh! Non guardare me! È il suo! Sara! Perché? Tieni! Grazie! Oh! Molto carina! C'è solo una cosa da fare! No! Ti prego no! No! È stato un incidente! Basta! Ah! Wow! Fighissimo! Grazie alieno! Aspetta! Ma che fai? Mi metto in viaggio! Ma... Non ci crederà nessuno quando lo racconteremo! Lo so! Wow! Posso girarla? Ok, vai! Viola! Uh! Un telefono! Che carino! Sì! Wow! Che figo! Wow! Adoro questa challenge! Selfie! Adorabile! No! Non è giusto! Non faccio io le regole! Non è giusto! Devo fare una chiamata! Ehi! Mi serve il tuo aiuto! Sì! È urgente! Una cosetta innocente! Cosa? È lei! E va bene! La fotocamera mi adora! Cos'è successo? ha funzionato! Ha funzionato! Grazie! Pagare! Wow! Com'è faticosa! Ne è davvero valsa la pena! Grazie! Ciao! Sei stata tu! Che cattiveria! Non so di cosa parli! È solo un gioco! Vedi? Aspetta! Ma questa! Ha cioccolata! Oddio! Buonissima! Potrei mangiarla all'infinito! Oh ma dai! Oh sì! È un lecca lecca! Che odorino! È buono! Oh sì! Gnam! Tocca a me! Rosa! Wow! Rose! Che romantico! E sembrano buone! Ecco qua! Wow! Buonissima! Wow! Eh... Pronto? Sto aspettando! Siamo alle solite! Non ho mai avuto tutte queste rose! Ho un'idea! Funzionerà! Ma che sto facendo Mindy? Mi serve questo nastro adesivo! Ecco! Una corona di rose! Che bello! Ma quando arriva il mio? Finalmente! Spaghetti! Beh... Proviamo! Wow! Tutto qui? Eh... Vabbè! Non importa! Mi piace! Aspetta un attimo! Come sto? Favolosa, vero? Fragola! Mi piace! Ne voglio ancora! Stai bene! Mangiati la tua roba! Va bene! Ci siamo quasi! Come sono difficili i bordi! Il mio sta venendo bene! Hai visto? Davvero realistico! Gli occhi verdi sono il dettaglio più importante! Mi serve un'altra prospettiva! Non stai disegnando solo tu! No! Ecco! Molto meglio! Ah sì? Ora la sposto! Rimettila a posto! Dobbiamo farlo insieme! Molla! Ma dove siamo? Ti dispiace se inizio io? Gomma da masticare! Quale scelgo? È al limone! Wow! Vedo tutto giallo! Che c'è? Perché mi guardi così? Chissà che mi farà questa! Questa è anche meglio! Tina? Ciao! Che stai guardando? Oh! Figo! Che strano! Che c'è? Ho un'idea migliore! Arcobaleno time! Non vedo l'ora di vedere che succede! Wow! Un sacco di colori! Wow! Ha perso la testa definitivamente! Tocca a me! Oh! Gomma bianca e nera! Wow! Non ho mai visto una gomma del genere finora! Deliziosa! Gusti buonissimi! Oh! 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 Devo darti una botta sulla schiena! Oh! Ecco! Forza! Wow! I! Stai bene! Che disastro! È stato un incidente, lo giuro! Beh, vai prima tu! Una patata! Che c'è di bello? Yuck! È pure cruda! Credi sia divertente! È la tua! Oh no! Anche io! Non ridi più, eh? Devo provare a fare qualcosa! Sicuramente è cruda! È durissima! Trovo con un ultimo colpo! Oh sì! Ti ho stupita, eh? E vai! Come sei forte! Aia! Wow! Qualcuno ha ordinato patatine fritte! Tina! Tina! Svegliati! Sei svenuta! Ma guarda la tua patata! Oddio! Wow! Ma guarda che colori! Non sono pazzesche! Mmm! Squisito! Ne potrei mangiare a bizzette! Aspetta! Niente! E vai! Patatine nere! Oh sì! Che bella magia! Chissà se sono buone! Ding ding ding! Buonissime! Mai sottostimare una patata! Bene! Facciamolo! Ehi! Non è giusto! È vuoto! Eh sì! C'è qualcosa che non va! C'è qualcosa di sotto! No! Nemmeno qui c'è niente! Che strano! Beh! Immagino che ci fermeremo qui! Cosa? Sei un mostro! Sicuramente ha un sacco di piume! Che vuoi farci fare? Non ci farà del male, vero? Ma dove è andato? E ora che dobbiamo fare? Aprirlo! Non è leggerissimo! Ora lo mordo! Ma è buonissimo! Chi l'avrebbe mai detto? Beh, sicuramente è anche bello da guardare! Ma di che saprà? Vediamo! È gommoso! Sta di frutta! Mi piace un sacco! Che bella sorpresa! No! Vado prima io! Uh! Questa pizza! È ancora congelata! Brr! È freddissima! Guarda! Non posso mangiare! Non ho neppure il forno! Ma ho il fun! Davvero? Ti ispira? Io passo! Dai! Sciogliti, stupido ghiaccio! Oh! Questa proprio non ci voleva! Ehi! Sono io! Ho questa pizza! È molto più bella ora! Wow! Gnam! È davvero buona! Approvata! Non me la fai assaggiare? Chissà cosa ho io stavolta! Non è per niente simile a quella di Lily! E poi è sottilissima! Che peccato! Vabbè! Dovrei provare anche io col fun! Ho un'idea migliore! Torno subito! Cos'è questo posto? Sta dormendo! Ti dispiace se te la rubo un attimo? Ne vedremo delle belle! Devo andare! Wow! Che bello! E ora si torna al lavoro! Eccoci qua! Pizza arcobaleno in arrivo! Come hai fatto a trovarmi? Eccoti qua! Che imbarazzo! Uh! Che paura! L'ho scampata! E ora si mangia! Ne è valsa la pena finire nei guai con la strega! Niente di meglio di una pizza, vero? Dopo di te! Thank you! E cosa abbiamo qui? Soda in tutti i colori che vogliamo! Ma che cosa fantastica! Ma prima di aprirne una! Divertiamoci un po'! Ehi! Queste maracas sono pazzesche! Guarda come suono bene! Bello, vero? Basta suonare, per favore! Non riesco a pensare! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Ok, provo a ignorarla! E per me? Sono dei semi di caffè! Me ne servono giusto un po'! Ciao, caffettino! Senti che odorino! Arabica è il mio preferito! Wow! Overdose di caffeina! Devo fare cose, vedere gente! Oh, cavolo, adoro le ciambelle! Ma le ciambelle colorate sono ancora meglio, non è vero? Oh mio Dio, credo che questa sia la prima sfida! So cosa fare! Aspetta! Che c'è? Mi prendi sempre le cose! Oh, incredibile, stai già mescolando l'impasto! Certo, sono molto brava a cucinare! Verso l'impasto in questo recipiente! Dovrebbe bastare! Aggiungo un po' di colorante, cominciamo con il blu! Prendo il sacchetto adesso e lo sfremo un po'! In questo modo mescolerò il colore! Ottimo! È arrivato il momento dello stampo per le ciambelle! Uno alla volta userò dei colori diversi! So già che il risultato sarà bellissimo! Ho fatto abbastanza impasto, sì! Ecco il tocco finale con del giallo! Hanno un aspetto fantastico! Mettiamoli subito in forno! Beh, anch'io sono in grado di preparare qualcosa! Non voglio creare da zero! Il procedimento è quasi sempre noioso e lento! Ecco qui delle piccole ciambelle che posso colorare! Che carine! Non riesco a scegliere il mio colore preferito! Un po' di zuccherini le renderanno ancora più invitanti! Oh, la bellezza di queste ciambelline mi fa quasi piangere! Devo provarne una! Au! Verde, sei stata cattiva! Ecco qui! Sono rimaste nel forno il tempo giusto! Mmm, posso già dire che hanno un buon profumo! Ovviamente sono coloratissime! Beh, le ciambelle devono assolutamente avere delle decorazioni! Le immergerò una per volta in questa glassa! E poi le passerò sopra gli zuccherini! Oh, wow! Le mie piccole ciambelle arcobaleno sono carinissime! Cavolo, odio le mie ciambelle! Wow, le tue sono bellissime! Sei in arresto per violazione di domicilio! Aspetta, senti anche tu questo odore? Sì, un buon odore! Aspetta, se ne è andata! A questo punto vado! So che viene da qualche parte! Da questo tavolo! Credo che mi nasconderò! Qualcuno di voi ha combinato qualcosa, vero? Va bene, lo confesso! Sono stata io a derubare la banca! Agente, faccia il suo lavoro e mi porti via! Ma che? Come faceva ad avere tutto quel loro in tasca? Chiunque abbia preparato queste ciambelle merita una statua! Oh mio Dio, sono così buone! E' quella roba lì? Oh, niente, è meglio metterla via! Se lo dici tu! Comunque delle ciambelle buonissime! Decisamente conviene rimanere nascosta! Accidenti, c'è mancato poco! A chi non piace un buon uovo soprattutto a colazione? Ok ragazze, preparate delle uova! Uova, davvero! Che roba noiosa! Beh, diamo almeno un'occhiata e scopriamo che abbiamo qui sotto! Davvero? Uno, due, tre, quattro, cinque... Ok, ci sono! Ed eccola che se ne va! Che mi invento per questa sfida? Mi è venuta un'idea! Ma mi servono gli strumenti giusti! Pronto? Sì, vorrei fare un ordine! Grazie! Oh, eccolo qui! Sono molto soddisfatta della velocità! Ecco le uova, devo soltanto aprirle! E separare i tuorli dagli albumi! Adesso verserò i bianchi nel mio piccolo aggeggio! E aggiungerò del colorante alimentare così! Mescolerò il tutto usando questo bastoncino! Che bel blu, vero? Inserisco questo piccolo top e poi il coperchio! Devo assicurarmi che sia ben stretto prima di procedere col prossimo passo! Ovvero mettere tutto in una pentola piena d'acqua! Facciamo bollire per poter cuocere gli albumi, che non sono più bianchi, visto che ho aggiunto il colorante! Apriamo e vediamo come sono venuti! Guardate che bello! È tutto blu e ha la forma di un cuoricino! Adesso aggiungo i tuorli! Wow! Anche questi devono essere cotti, quindi l'aggeggio torna di nuovo sulla pentola! Dovrebbe essere sufficiente così! Togliamoli dagli stampini! Ed ecco fatto! Sì, che bello! Il risultato è perfetto! Li tiro fuori dagli stampi e li metto su un piatto! Guardate quanti colori e quante forme! Sono sicuramente le uova più belle! Wow! Sono bellissime! Vieni qui, stupito uccello! Ehi, guardate quest'uccello! Dovevamo creare delle uova, arcobaleno, non un uccello! Uova? Non credo di aver ricevuto quel messaggio! Bene, con che cosa giochiamo adesso? Noodle! Chi non ama i noodle? Ovviamente voglio che siano colorati! Nudo l'arcobaleno, per favore! Ah, nudo l'arcobaleno! Questa volta non so proprio come fare! Hai qualche idea? E questo spuntato dal nulla? Vediamo! Ehi, non c'è niente! Qui è vuoto! Eh, cara tontolona, guarda il piatto! Oh, il piatto! Ma certo, sapevo che la roba era lì! Sembra che ci siano dei noodle istantanei! Anche il colorante alimentare! Ehi, dammelo! Aggiungo del colorante in questa ciotola piena d'acqua! Fatto! Il rosso dovrebbe essere sufficiente! Adesso aggiungo i noodle! Mescolerò bene, sia per idratare gli spaghetti che per mescolare il colore! Guarda un po'! Sono diventati rossi! Adesso devo soltanto aggiungerli al piatto con gli altri noodle! Hanno anche un ottimo profumo! Non credi? Cos'è questo delizioso aroma? Incredibile! Wow! Ehi, non puoi mangiare gli spaghetti con le mani! Rimani qui! Prendo gli utensili! Nutella! Buonissima! E qui cosa abbiamo? Perché mi hai spezzato il cuore? Wow! Sembra un'anima in pena! Sono esausta solo a guardarla! Non mangiare i noodle con le mani! Ci sta mettendo una vita! Quanto devo aspettare ancora? Questi noodle sono miei! Ehi! Fermati! Sta mangiando i noodle! Eccolo che arriva! Meglio prenderli e scappare! Ho trovato le forche... Ma dove sono finiti i noodle? Pensa di potersi nascondere da me? Seguirò le tracce di noodle! Mi hai trovato! Non posso credere che tu li abbia mangiati tutti mentre non c'ero! Beh, non tutti! Ce n'è ancora qualcuno per te! Vediamo! Ecco qui una nuvola e... Boom! Ecco la prossima sfida! Nuvola arcobaleno! Bellissime, vero? Allora, cominciate! Cosa? Nuvola arcobaleno? Non era una sfida sul cibo? Stavolta devo concentrarmi bene! Masta! Ecco perché non riesco a concentrarmi! Ok, dimmi la tua idea! Ti piacerà? Vedi questa lampada? Potremmo utilizzarla! Cosa? No, non ci penso neanche! E tu, invece? Semplice! Individuiamo una nuvola che ci piace! Ce la prendiamo all'agio e la tiriamo giù! Penso che potrebbe funzionare! Quest'idea mi ha convinto! Sì! Penso di potermi inventare qualcosa! Devo solo indossare la tuta giusta! Anche il casco è a posto! Sono pronta a prendere la mia nuvola! Ci vediamo dopo! Eh, ciao! Io che posso fare? Comincio a pensare! Sono sicura che il mio cervello riuscirà a trovare un'idea! Wow! Qui è così buio! E anche vuoto! Fame! Questo piatto da dove è arrivato? Adoro i waffle ripieni! Che buon profumo! Ah, giusto! Mi ero immaginata tutto! Aspetta! So come posso fare! Verserò un po' di questo impasto in diverse ciotole! Saranno buonissime, lo so! Devo assolutamente aggiungere del colore! Questo è il tema della sfida! In questa ciotola metto il rosso e lo mescolo bene! Faccio lo stesso col blu, il giallo e il viola! Ecco! Tutti gli impasti sono colorati e pronti! Ne metto un po' sulla piastra dei waffle! Non troppa, perché voglio creare un waffle arcobaleno, quindi devo aggiungere anche gli altri colori! Fatto! Cominciamo a cucinare questi waffle! Ta-da! Il mio waffle arcobaleno è riuscito! Aggiungo della panna montata ed ecco delle nuvolette che accompagnano l'arcobaleno! Guarnisco con degli zuccherini! Questo piatto è decisamente colorato! L'adoro! Ok, dovrebbe bastare con questo finito! Sì! Wow, onestamente penso che questa sia la cosa più incredibile che abbia mai fatto! Oh, sei tornata! Com'è andata? Alla grande, guarda la mia nuvola! Aspetta, dov'è? Che sfiga! Wow, ma quel waffle l'hai fatto tu! Dammelo, non posso credere che l'abbia fatto senza di me! Tra l'altro è buonissimo! Dovrebbe essere per... Beh, immagino tu possa prenderlo! Entrambe avete fatto un ottimo lavoro, bravi! Aspetta! Va bene, apri il tuo! È la prima volta che le provo! Sono tre volte più grandi! Vediamo se è vero! Guarda che splendidi colori! Il verde è il mio preferito! Lo mangio sempre per primo! Ma anche l'arancione e il viola sono buoni! Nuh-uh! Che ingorda! Certo! Ti interessa qualche soldino? No! Sul serio? Beh, peccato per te! Potrei aprire il mio! Una pannocchia! Sarà stata lavata! Perché Ellie ha le caramelle? È veramente ingiusto! Brian, calmati, amico! Ecco, prendi questi! Sono così arrabbiato! Sta per esplodere! Wow! Ellie? Sì? Wow! Cosa? Popcorn arcobaleno! È il miglior mix di sempre! Il sapore? Buono! Posso assaggiare? Credo di essermela meritate! Stop! È un pepistrello! Guarda cos'ho! Un utensile con le caramelle! Non credo ci sia niente di meglio! Auc! Fa davvero male! È stato esilarante! Ah sì? Le piacerebbe se le pizzicassi il braccio! Ho i capelli! Potrei davvero divertirmi! Scusa, stavo pensando! Ok! Comunque... Cos'è questa dolcezza arcobaleno? Una caramella? Sono estagiata da questi colori! Divertiamoci! Che bello! Ehi! Presta attenzione a me! Forza! Oh, cavolo! E ora? Oh! Sì! Chissà com'è dentro! Ha un ottimo profumo! Sì! Proprio come sospettavo! Dammela! Prego! Non me l'hai nemmeno chiesto! E non ho ancora finito! Wow! Anche io! Ne vuoi un po'? È il mio ingrediente segreto! Che inizi il divertimento! Mmm! È dolcissima! Ok, mi hai fatto venire l'acquolina! Mmm! È la tua migliore idea finora! Via! Wow! Ma come hanno creato un intero arcobaleno? Assaggiamo! Ok! Poche cose sono buone come il formaggio fuso! Fantastico! È impossibile che avanzi! Già, è davvero buono! Mmm! Eccellente! Vuoi l'altra metà? Ho ancora il mio piatto da scoprire! Una striscia zuccherina! Beh, dovrò assaggiarla, no? Guarda! Senza mani! Mi sto avvicinando alla fine? Quasi! Oh! Ehi! È stato imbarazzante! A me è piaciuto! Puoi continuare se vuoi! Sono prontissima! Eh? Troppo lenta! Wow! Una macchina per le gomme! Pronti per la sfida? Vediamo un po'! Attento! Ora portala a casa! Ta-da! Chissà che gusto è! Mmm! Ne vuoi una? Al volo! Potrai mangiarne un milione! In arrivo! Due in un colpo solo! Ehi! Sono già finite! Ci siamo fatti prendere la mano! E il tuo? E il tuo? Mi piacciono le nerds! Puoi mangiarne un mucchio alla volta! E la scatola è piena! Guarda che esplosione di colori! E la scatola è piena di colori! Cavolo! Fantastico! Aspetta! Mettiamole qui dentro! Ottima idea! Sarà molto più divertente! Aspetta! Non si muove più! Non è un problema! Sapevo che eri mia amica per un motivo! Ehi! Brian! Posso farlo senza di lui! Questi vermi sono veri? Cosa? Fico! Ti aiuterò io! Guarda quanta terra! Non sono tanto sicuro! Speravo che non lo dicessi! Aspetta un momento! Vuoi dire che sono solo caramelle? Mmm! Perché non scaviamo sul serio? Sono già pronte! Terra! Cioè budino al cioccolato! Eccomi! Che delizia appiccicosa! Mmm! Eccellente! Io intanto vado... A una partita di basket! E vai! Pronti? Puntare? Fuoco! Sì! Canestro! Grande! Giochiamo! Via! Siamo abbastanza bravi! Vuoi dire che sei abbastanza brava? Da poterne mangiare un po'! Saporite! Ah sì? Uno, due, tre... Via! Uh! Un fiore! Ok, dovrebbe essere facile! Dobbiamo per forza? Io non so cosa fare! Aspetta! Penso di avere un'idea! Sono un genio! Appoggerò i miei gioielli sulla carta! Ora ci dipingerò sopra! Non ho bisogno di molta vernice! E userò colori diversi! Ok, dovrebbe andare! Userò la punta del pennello per trascinare le catenine sulla carta! Anche la vernice verrà trascinata! Così i colori si mescoleranno! Ecco la mia versione di un fiore! Abbastanza figo, eh? Wow, sono impressionata! Ora posso truccarmi! Questa è la mia occasione! Devo avere sempre un bel aspetto! Ho una reputazione da mantenere! Sì, è fantastico! Questo è proprio quello di cui ho bisogno! Ora posso creare il mio fiore! Tamponerò la vernice con questo pennello per il trucco! Poi farò lo stesso con la vernice verde! Sta venendo fantastico! Aggiungerò alcuni dettagli e questo è tutto! È così carino! Fammelo rimettere dove l'ho preso! Cosa stai facendo? Niente! Bene, non distrarmi mentre mi trucco! Sono così affascinante! Oh, tempo scaduto! Cosa ne pensi? È sorprendente, vero? Il mio è più bello! Lavoro eccellente! Molto interessante, Sara! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Non può essere! Cosa c'è di così divertente? Hai della vernice sul viso! La mia bellissima pelle? No! È un'opera d'arte, Sara! Mostrala al mondo! I vostri dipinti sono eccellenti! Ben fatte entrambe! La prossima sfida è disegnare un unicorno! Sì, adoro gli unicorni! È tipo un cavallo, giusto? Sono terribile a disegnare animali! Psst! Che cosa? Guarda! Tanti soldi! Saranno tuoi se mi disegni un unicorno! Sara! Sono così delusa! No, disegnalo tu! Non so come fare! Fallirò questa volta! Come sei drammatica! Conosco un trucchetto per disegnarlo! Appoggerò la mano sul foglio e ci disegnerò intorno! Ora lo riempirò! È un modo semplice per disegnare un unicorno! Ora lo colorerò! Il rosa è un bel colore per un unicorno! Oh, è così carino! Aggiungerò altro colore al corno! È stato così veloce! E ho fatto! Ah, ma guardalo! Perché sei così felice? Mi è venuta un'idea! Posso semplicemente copiare Molly! Ma farò un unicorno ricco! Con questa banconata farò il corno! Le opere d'arte costano! Cosa ne pensi? Sul serio? È esattamente uguale al mio! Eh, no! Il mio è più prezioso! Yuhu! Insegnante! Oh, guarda un po'! Meravigliosi! Ben fatto entrambe! Sono un'artista! Bene! Ti lascerò vincere questa volta! Ups! La 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 la! Uh, lo! Uh! Uh! Ups! Scusate ragazze! Cosa abbiamo questa volta? Una stella! Iniziate! Questa cos'è? Forniture per dipingere! A chi importa? Molly può averle! Uh! Guarda qui! Wow! Questo deve essere il mio giorno fortunato! Metterò un template sul foglio! E ho già rivestito il pennello con diversi colori di vernice! Dipingerò sopra il template! Che bell'effetto! Ora rimuoverò con cura il template! Wow! È come un arcobaleno! L'adoro! Questo è il meglio che puoi fare! Devo fare una chiamata! Pronto? Sì, ho bisogno di aiuto! Ehm... Cosa sta succedendo? Bisogna disegnare una stella! Focile! Per me è semplicissimo! Guarda e impara! Sarebbe stato bello fare qualcosa di più impegnativo, ma cosa posso farci? Ho finito! Potete applaudire ora! Lo so! Ho talento! Oh, avete finito! Oh! Tu sì che sei un'opera d'arte! Sei la mia musa ispiratrice! Oh, tu! Potrei dipingerti ogni giorno! Eh... Dovrei andarmene! Non ho mai visto una tale bellezza! Questo è per te! Sei così romantico! Mi sento così ispirato quando sono vicino a te! Andiamo! Ehi, tornate! È il mio dipinto! Oh! Questa volta è un cuore! Avrete bisogno di altri materiali! Ecco a voi, ragazze! Guarda tutte queste penne! Wow! Io ho solo queste! Sul serio? Buona fortuna! Oh! Ho un'idea! Verrà benissimo! Disegnerò un cuore gigante! Fin qui tutto bene! Ora disegnerò un cuore più piccolo all'interno! È perfetto! È terribile! Ehi, guarda il mio disegno! Carino! Mi sa che devo disegnare qualcosa! Aspetta! Ho un'idea! Userò la penna e la matita contemporaneamente! Adesso la parte divertente! Traccerò delle linee al centro del cuore! Dovrebbe andare! Ora aggiungerò l'ombreggiatura! Farò delle zone più spesse per creare più ombreggiature! Sta venendo benissimo! Ora lo taglierò intorno alla parte superiore del cuore! Insegnante, insegnante, ho finito! Scusa! Ok, vediamo la tua arte! Uh, molto ingegnoso Molly! Mi piace! Eh, Sara? Dov'è il tuo cuore? È laggiù! Oh! È come la street art! Approcci diversi, ma entrambi eccellenti! Li amo! Oh, grazie! Oh, state aspettando me! Facciamo girare la ruota! Questo è molto divertente! Ok, un arcobaleno! Ho bisogno di molta tempera! Dovrebbe essere abbastanza facile! Devo solo disegnare una curva! Ok, è più difficile di quanto pensassi! Ah! Non è venuto! In realtà potrebbe tornarmi utile! Penso di sapere cosa fare! Prenderò una striscia di carta e la piegherò in questo modo! Ora disegnerò una faccina carina! E ora gli occhi! Mi piace finora! Mi sento così creativa! Ehi, fai attenzione! Ups, probabilmente ho solo migliorato il tuo disegno! Ok, ora serve un po' di colore! Non voglio ancora colorare gli occhi! Questo rosa è così luminoso! Dovrei prendere lo smalto per unghie di questo colore! Il collare può essere giallo! E gli occhi possono essere verdi! Che gatto felice! Anche un sorriso arcobaleno! Lo mostrerò a Molly! Boo! È così divertente! Devo ripulire la vernice che sarà versato! Sto solo peggiorando le cose! Aspetta, posso farci qualcosa! Che bella idea! Ho dipinto questa tela di blu! E ora posso usare la spugna per fare una nuvola bianca! Ora ci verserò della vernice arancione! E farò lo stesso con colori diversi! Ecco, fatto! Ehi, occhio a non prendermi in faccia! Insegnante, guarda qui! Oh, fammi vedere Molly! È così unico e colorato! È bellissimo! Boo! Wow, com'è giocoso, Sara! Sono orgogliosa di entrambe! Vi meritate una ricompensa! Siamo state fantastiche, Sara! Fantastico ancora il ragazzino! Non è finita! Sei quello che vuoi! Benvenuti alla sfida dei Pancake! Il tema è questo tenero personaggio! Ricordate che deve essere sotto forma di pancake! Sarà facilissimo! A noi due! Sono un uomo impegnato, guarda qui! Comincio dal contorno, poi la faccia! È come disegnare un gatto! Uso il rosso per le guance e la bocca, poi riempio il resto con il giallo! Oh, sì! Credevo che questa dovesse essere una sfida, almeno è un passatempo! Devo solo colorare dentro i bordi e aspetto che il mix per Pancake si solidifichi! Ok, dovremmo esserci! Guardatelo, è un'opera d'arte! Penso che ti piacerà! Il mio compito è finito! Ammirate la mia creazione! Vi prego piano con gli applausi che posso dire ho talento, ricco, bello e artistico perché sono single! Oh, devo prendere una cosa! C'è un dettaglio che manca! Serve della polvere dorata! Quest'oro è fresco, l'ho raccolto stamattina! Aggiunge un tocco speciale! Cosa mi tocca vedere? I soldi non comprano il gusto! Lo mangio sulle uova a colazione, le rende super croccanti e voilà! Un Pancake decisamente costoso! Devo batterlo a tutti i costi, ma come? Aspetta! Ci sono! È il momento di brillare! Al lavoro! Mi serve il mix per Pancake nero! Disegno un cerchio, al suo interno disegno un cerchio più piccolo. Coloro di rosso la metà superiore e il cerchio interno di bianco. Così. Poi la metà inferiore. Wow, si cucina in fretta! La mia Pokéball personale! Potrei mangiarlo subito, ma non posso! E adesso la parte più bella! Sta succedendo, sì! Come nei miei piani! Oh, dove è finito? Non è giusto! Che cosa hai fatto? Tempo scaduto! Consegnatemi i Pancake! Oggi non ho fatto colazione, quindi non vedo l'ora di assaggiarli. Inizio da questo. Uso intelligente del colore. Ora la prova d'assaggio. Leggero e soffice, buonissimo! Qui non c'è il pancake. È uno scherzo? A questo punto credo che mangerò l'oro. Mai provato prima? Ecco qui. Ah, orribile! Ma che ti è saltato in mente? Beh, questo è facile. Hai vinto! Wow, sono il più grande! Non è giusto come ha potuto battermi. Rassegnati, non puoi permettertelo. Tanto non lo vorrei. Pronti per il prossimo round? Ecco la vostra ispirazione. Guardate com'è grande il diamante! Finalmente qualcosa che mi interessa. È così magico! Lo voglio! Può abbinarsi agli altri miei grossi diamanti. Vuoi vedere qualcosa di cool? Non è spettacolare? Sono innamorato. È la cosa più bella che abbia mai visto. A parte me, naturalmente. Vacci piano, amico! Vuoi moderare l'intensità? Mi fa male agli occhi! Devo mettere gli occhiali da sole. Così va meglio. Che figo che sono! Se potessi vederla, so che sarebbe invidioso. Un aiutino! Spero che il mix di pancake sia questo qui. Comincio disegnando un triangolo, poi lo trasformo in un diamante. Uso diversi colori per riempirlo. Simuleranno i riflessi all'interno. Ora lo capovolgo. Mi piace com'è venuto. Togliamolo dalla piastra. Allora, come vi sembra? Vi prego, siate buoni! E ho finito! Shhh, stai rovinando l'atmosfera. Ah? Scusa, ho del lavoro da fare. Questo farà più male a me che a te. Ti ricorderò per sempre. Per fortuna mi alleno. Queste braccia sanno fare di tutto. Sto per far piovere. Guardate che colori! Sono così belli, vero? Perché avere un solo diamante se puoi averne tanti? È il mio piatto ideale. Solo non ditelo al mio dentist. Allora, chi vince il round? Prima devo vederli. Portatemi il cibo. Amo questa parte. Oh, sembrano squisiti. Inizio da questo qui. Questo diamante è delizioso. I miei complimenti allo chef. È meraviglioso. Bravo, Jared. Che cosa abbiamo qui? Ma questo è un vero diamante. Ci provo. Oh, il mio dente. Ma che ti è saltato in mente? Il mio bel sorriso distrutto. Cosa ho fatto per meritarmelo? Jared vince questo round. Non c'è storia. No, questo è un guaio. Sì. Wop, wop. Non ci credo. Questo risultato mi perseguiterà a vita. Sono carico e pronto a partire. Perderai. È così emozionante. Arriva. Ta-da. Che state aspettando? Wow, amo questi personaggi. Ho così tante idee. Che problema ha? Dovresti vedere questo? Ho una sorpresina. Lo so, lo so, è stupendo. Di ciao al mio amichetto. Ehi, guarda questo sfigato. Come mi ha chiamato? Le sue parole fanno male, sa? Che cosa ho qui? Oh, che delusione. È un mondo davvero crudele. Ma io non mi arrendo. È chiaro? Com'è lui? No, non puoi dirlo. Ma concordo, lo è. Ok, creiamo dei pancake. Comincio con un rettangolo. Poi aggiungo delle gambe e ora disegno la faccia. È ora di colorarlo. Mi muovo intorno ai bordi con questo verde scuro. Aggiungerà più ombreggiatore. E prendo la cosa molto sul serio. Poi uso un verde chiaro. Riempio gli spazi vuoti con questo. Penso che sia cotto, sì. Credo sarai piacevolmente sorpreso. Wow, dovrei fare l'artista. È una delle mie opere migliori. Sarà un peccato mangiarlo. Cavolo, è proprio bello. Ehi, tizio del verdetto, qui non c'è gara. Ah sì, devo davvero impegnarmi di più. Posso farcela. Opterò per il mostro blu. Inizio dai contorni, poi lo coloro di blu. Bella questa tecnica di ombreggiatura, vero? Lo farò anch'io. Devo agire in fretta. Gli serve una corona d'oro. Wow, che bello. Sono un mago con il mix per Pancake. Ed è pronto. Sono felice di com'è uscito. È uno dei miei personaggi preferiti. Mi sono divertito tanto in questa sfida. E ho una bella sensazione al riguardo. Ho finito. Forza, fratello. Devo vincere. Artigianato sublime. Consegnatemi lì. Da dove cominciare? Oh, questo qui. Sembrava divertente. Spero che il sapore sia buono come l'aspetto. Sono nel paradiso dei Pancake. Eccellente. Davvero eccellente. E che cosa abbiamo qui? Almeno stavolta hai fatto un pancake. Finora tutto bene. Mi piace. Ho preso la mia decisione. Hai vinto, hai vinto. Tutti vincono. Io? Lui? È una disgrazia. Lo accetto. Wow, siamo così professionali. Ma questi a che cosa servono? Guarda. Dobbiamo girare la ruota. È uscito il rosso. Dobbiamo tenere gli occhi chiusi. È impossibile. Non abbiamo altra scelta. Proviamoci. Uno, due, tre, via! Wow! Non ho idea di che cosa abbia preso. Ma la forma più o meno è questa qui. Sarò rimasta dentro con i bordi. Mi sta riuscendo, lo sento. Comincio sempre dalla faccia. E poi? Faccio il resto. Spero di aver preso il blu. Wow, ce la sta mettendo tutta lei. Occhio non vede, cuore non duale. Come se potessi davvero farlo ad occhi chiusi. Quello che importa è vincere la sfida. Sta venendo proprio bene, credo. Chissà che combina Annie. Ma ha gli occhi aperti. Così non rispetti le regole. Beh, nemmeno tu. Oh, beh, non ci avevo pensato. Ok, rifacciamolo come si deve. Via! Non ho proprio idea di che cosa sto facendo. Ma nella mia mente è super preciso. Ed è anche molto carino. Pronta? Wow, è ora di girarle dall'altra parte. Bello, guarda, wow! Credimi, non è niente male, sai? Dobbiamo assaggiarle. Assaggiamo, saranno buone. Che profumino! Il sapore non è granché. Stai bene? Fa schifo! La tua com'è? Scopriamolo. Ti dirò, è davvero gustosa. Ne vuoi un po'? Va bene. Grazie, vediamo. È deliziosa! Mai fermarsi alle apparenze. E adesso che abbiamo? Oh, un carinissimo unicorno! Abbiamo tutto l'occorrente, che bello! Guarda! Io ho la stessa cosa. Aspetta, dobbiamo girare. È uscito il blu! Ma che... Senza mani! No, non può essere. Dobbiamo farlo. Pennelli pronti! Senza mani! Ho un'idea! Userò tutti i colori. In fondo è un unicorno, giusto? Che la magia abbia inizio! All'inizio sembrerà un po' strano. Ma bisogna avere fiducia! Comincio a farmi male la bocca. Senza mani? Nessun problema. Oh! Non è quello che avevo in mente! I colori sono tutti confusi. A te come va? Io provo qualcosa di diverso. questo coso è difficile da usare. Ok, ce l'ho fatta! Questa sfida è meglio di un'ora in palestra. Sta venendo benissimo finora. Guarda che linee! Ce l'ho fatta! E il risultato è magnifico, non trovi? Meraviglioso! Arco balenoso! Il mio unicorno al confronto è triste. Ho vinto io di sicuro. Annie, guarda! Wow! Un granchietto! Quanto è carino! Con che cosa dobbiamo lavorare adesso? Non capisco, non ci arrivo. E adesso? Ci stanno cronometrando! Dobbiamo sbrigarci allora! I granchi sono rossi, giusto? Ho un'ideona! Verrà un capolavoro! Non ho mai disegnato un granchio. E sta per scadere il tempo! Come fa Annie ad andare così spedita? Io non ho neanche cominciato! Aspetta! So io cosa fare. Devo solo scegliere il momento giusto. Ah, beccata! Sei matta! Scusa! È andata alla grande! No, 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 no! Così lo peggioro soltanto! Che peccato! Non è un mio problema! Pagherai per avermi sabotata! Adesso che ci penso? Posso approfittarne? Ta-da! Perché arrabbiarsi quando si è furba, eh? La risposta è proprio qui davanti a me! Le dita sono meglio dei pennelli! Oh no, tempo quasi scaduto! Nessun problema! Pronta? Mostriamo i disegni! Ehi, ma come mai è così bello? Velocissima, poi! Bisogna sapere usare le dita, visto? Ehi! Mi dispiace, va bene! Amiche come prima! Magari avessi un guscio anch'io! Sasso, carta, forbici! Guarda! È un puppet! Ma qui, secondo te, che significa? Non capisco! Dobbiamo scambiarci i disegni! Sì, ma con cosa dobbiamo disegnare, allora? Oh, ecco con cosa! Niente male, eh? Se lo dici tu... Io non ho il mattarello, però! Non è giusto! Ci cronometrano di nuovo! Cominciamo, allora! Forza! Inizierò disegnando qui sopra! Ci vuole pazienza! Che fastidio! Però ho sempre il mio dito, giusto? Questi sono puntini, sicuro! Niente male, nonostante tutto! Fantastico! Il tuo come sta andando? Ah, guarda qui che roba! Adesso devo solo... Ah, è tempo di scambiarli! Devo continuare con il tuo? Avanti su! Dammelo! Ah va! No, il foglio è ancora bianco! Beh! Ah! Ah! Ma certo, anche il naso può servire! Anzi, mi diverto ancora di più! E i puntini vengono perfetti! Wow, sta uscendo benissimo! Non pensavo che un naso potesse farlo! Non è stupendo? Oh, interessante, sì! Ma niente a paragone col mio! Basta darti tante arie! Ecco il prossimo soggetto! Ah, che bei fiori! Cominciamo! Non abbiamo girato la ruota ancora! Verde! Dice che... Cosa? Bisogna disegnare con la mano non dominante! Ah beh, per me va benone! Sono bravissima anche con la sinistra! Ok, vacci piano però! Vedrai, sono delicatissima! Sembrano proprio veri, giusto? Tutto sta nell'inclinazione del pennello, anche con la mano meno usata! Allora? Fantastico! Sembra un tatuaggio, lo adoro! Ma ora, che sta succedendo? Oh, guarda! I miei fiori preferiti! Wow! Adesso tocca a me! Sono prontissima! Dipingere con la sinistra è complicato! Ok, credo di avere il controllo! Eh, o anche no! Ecco! Ehi! Annie! Ops! Mi è scappata la mano! Mi sento in colpa! Accetti le mie scuse! Grazie, amica mia! Beh, almeno sono in tinta! Cosa ci sarà? Degli schittos colorati, ovviamente! Voglio mangiare quelli viola! È come un'esplosione di frutta! Cavolo, potrei mangiarli tutti! Sul serio? Beh, io ho un piatto tutto mio! Non mi aspettavo una pannocchia! Non è proprio un dolce! Ah, ma è cruda! Ma perché? Mi va sempre tutto male! Ehi, Joy! Cosa succede al tuo piatto? È come se i colori ballassero! Ma davvero? Ho un'idea! Miglioriamo un po' questa pannocchia! Scuotiamola un po'! Che ne dici di com'è adesso? E ha un buon odore! Una delizia per gli occhi e il palato! Perché non assaggi? Wow, ma come sono buoni! Ti dispiace se apro il mio? È davvero straordinario! Sono strati di puro divertimento! Pensi che abbia un buon sapore? Mi sfidi a provarlo? Non rifiuto mai una sfida! Io assaggio! Voglio arrivare al viola! Devo assaggiare ogni singolo colore! È un arcobaleno su un cucchiaio! Un arcobaleno veramente delizioso! Sì, molto buono! Da un po' di formicolio! E io? Ma sono delle piccole biglie! Fammi vedere quale... Bingo! Proverò la gialla, gente! Vediamo di cosa sta! Joey? Stai bene? È da pazzi! È più grande della tua testa! Ma che spettacolo! Sì, diciamo... Qualcuna dei tovaglioli? Perché ne proverò un'altra! Questa volta rosa! Sì, questa mi piace più dell'altra! Ehi, Joey! Meglio farla scoppiare! Prima che diventi pericolosa! Forse dovrei spostarmi! Pronta? Sono il maestro delle bolle! Quanto potranno diventare grandi queste? Ok, mi devo concentrare! La mascella mi fa male! Accidenti! Sta crescendo sempre di più! Sta per scoppiare! Oh no! Devo assolutamente provarla! Ehi, ma dove stai andando? Wow! È un altro mondo qui! Wow! Sto per diventare super veloce! Non ci posso credere! Uh-huh! Sono il cowboy degli arcobaleni! Vai cavallo, vai! Sì, quanto mi piace! Ehi, ottimo lavoro, Joey! Adesso ho più energia! Wow, ma è pazzesco! Quella cos'è? Altra roba zuccherina in arrivo! Accidenti, non voglio più andare via! Wow, occhio! Ho di nuovo fame! Questi dolci in pronta consegna sono fantastici! No! Ma cos'è questa roba colorata? Joey? Che diavolo ti è successo? Non mi va di parlarne! Sappi solo che non matticherò più gomme! Tocca a te, Joey! Cosa ci sarà dentro queste cannucce? Dovrei mangiarle! Beh, forse se ci soffio dentro... Ups! Che cavolo! Provo in un altro modo! Forse bisogna succhiarle, no? Funziona! Figo! Tocca a me! Nudo il sarcobaleno! Che belli! Ma devo per forza usare le bacchette! Non sono tanto brava a maneggiarle! Non credo si faccia così! Forse l'angolazione non è giusta! Posso usare entrambe le mani? Che fatica! Solo un paio di mosse! Et voilà! Quanto mi piace il fai da te! E mi calza a pennello! A proposito di accessori! Ta-da! Ti piace? E adesso che cosa stai facendo? Calda muscoli, ovviamente! Perfetti! E ultimo, ma non meno importante... Wow! Una bellissima pashmina blu! Bravo, Anna! Quanti colori vivaci! Sei pronta? Ma guarda quanti strati colorati! E la glassa è alla vaniglia? Non ne sono certo! C'è solo un modo per scoprirlo! Devo prenderne un bel petto! Ecco qua! Guarda quanti colori! Occhio, Joey! Sì, la glassa è alla vaniglia! Sembra buona! Forse anch'io ho qualcosa di buono! Un dollaro? E che ci faccio? Non posso comprarci nulla! Wow! Sì! Vorrei tanto assaggiare quello! Ma certo! Aspetti! Quello! No! Quello viola! In realtà... Perché non fai da sola? Allora voglio il mirtillo! Sembra buonissimo! Ma perché fermassi al blu? Anche la fragola sembra buona! E ci starà benissimo con il mirtillo! Ok! Un cono gelato a tre gusti! E forse c'è ancora spazio! Oh, questo gusto non l'ho mai visto! Un capolavoro di gelato! Buona giornata! Oh mio Dio! Ma da dove è uscito quel sasso? E dov'è il mio cono? Tutta quella bontà persa! Oggi i denti! Wow! Ecco dove è finito il mio gelato! Mi dispiace, Joy! Beh, immagino che dobbiamo restare qui! Allora vediamo che succede! Ehi, come stai? Non parliamo da un sacco! Ah, io mi faccio la manicure nel frattempo! Eh? Finalmente! Sta succedendo qualcosa! Guarda questa luce! Arriva qualcosa di alieno! Sono curiosissima! Wow! Non vedo l'ora di vedere che succede dopo! Aspetta senza mani! Dai, non è giusto! Io ho una mano sola e mi va più che bene! E ora inizio a disegnare il mio alieno! Ecco la testa e ora il corpo! Non è un vero alieno se non ha le braccia! Due, ovviamente! E ora le gambette! Qualche dettaglio in più? Devo fargli i tipici occhi neri e grandi! E naso e bocca anche! E ora facciamolo muovere un po'! Ah, come la fa facile con una mano! Oh mio Dio! C'è un alieno proprio dietro di me! Sta facendo qualcosa col mio piatto e un pennarello! Hmm, vediamo cosa ha fatto! A quanto pare ha disegnato un alieno! Ehi, signor alieno! Guarda cosa ho fatto io! Visto? Posso farlo ballare muovendo l'acqua! Eh sì, devo dire che si muove proprio bene! Ti piace? Scommetto di sì! Sì! Gli piace di brutto! Wow! Guarda questa torta spaziale pazzesca! Wow! Me la sta dando! La prende come? Ecco, tieni! Questa potrebbe essere la torta più bella che abbia mai visto! Ah, lei la torta e io? Niente immagino! Solo un alieno che pasticcia sul mio piatto! Ehi, è il mio piatto! Non lo vuoi? Forse in cambio di una torta? No? Ma perché? L'hai disegnato tu! Non ci credo! Mmm, sembra buonissima! Do un morso! Miam! Om! Mu! Oh, torta spaziale buonissima! Sono contentissima di averla vinta! Queste caramelle alla frutta sono le mie preferite! Gusto tropicale è decisamente uno dei migliori, direi! Aspetta un attimo, ho un'idea! Fammele tirare fuori tutte! Come sono colorate e carine! Mi piace tantissimo il rosa! E ora mettiamole in ordine! Inizio con queste blu! E ora il rosa! Ottimo! Tutte in ordine per fare un po' di magie! Sì, ha funzionato! Si è trasformato in un pop-it! E ora mi rilasso! Ehi, ma come hai fatto? E che fai? Dovremmo realizzare un'opera d'arte! Oh, giusto, mi ero dimenticata! Mi sono distratta col pop-it! E vai, stavolta con le mani! Tutte e due, poi! È la mia occasione! Spero non ti dispiacerà se gioco un po' con questo! Anzi, lo uso per la mia opera d'arte! Inizio con questa tempera! Ok, pitturo l'interno dei pop-it col pennarello! Non vedo l'ora di vedere come esce! E ora faccio lo stesso con la fila arancione! Ok, fatto! E ora proviamo questa cosa! Devo rigirare il pop-it sul mio foglio! E ora inizio a premere! Rosso, rosso, ora blu! Guardala come usa entrambe le mani, dato che può farlo! Aspetta, so cosa fare! Forza, naso! Mi farai da pennarello! Uh, com'è fredda la tempera! E ora facciamo dei puntini sul foglio col naso! Non male! E ora cambiamo colori! Guarda, ho fatto un pop-it col naso! E vai, anche io ho fatto il mio! Non male, devo dire! Guarda come sono perfetti i miei puntini! Molto meglio dei tuoi! Wow, di nuovo la magia! Biscotti pop-it! Assaggiamo! Mamma mia, quanto sono buoni! Sembrano buonissimi, sì! Wow! La vedi questa luce? Uh, a quanto pare abbiamo delle scatole stavolta! Io prendo questa! Non ci credo! Guarda che c'era dentro! Bombolette di vernice! Chissà che c'è nella mia! Non riesco a capirlo scuotendola! La apro! Wow, una scatola piena di matite colorate! Le adoro! Oh, guarda! Un'altra scatolina! Cosa pensi ci sia dentro? Apriamolo e scopriamolo! Ok, non è quello che mi aspettavo! Un occhio gommoso! Com'è viscido! Ok, me lo mangio perché ho fame! Molto buono! E gommoso! Mi piace! Wow, veramente buonissimo! Ne vorrei altri! E guarda, stavolta entrambe con le mani! Ok, guanti e... Si inizia a fare arte! Inizio con il blu e faccio un cerchio al centro! E ora col bicchiere lo copro per passare la vernice bianca, ecco! Ora ho un cerchio blu perfetto! Poi mi serve un piatto! Lo metto rovesciato sul foglio! E ora vernice nera! Ok, mi serve un po' di nero al centro per la pupilla perché è un occhio! Sono pronta con le mie matite! Con una sola mano! Ecco qua! E ora disegnerò un occhio! Verrà bello sicuramente! E direi che ho finito! Ta-dan! La mia faccia felice è pronta! Wow! Come diavolo hai fatto? Cosa? Il mio occhio? Bellissimo, vero? Non ci credo si è trasformato quella magia in un altro occhio gommoso! Ma stavolta è enorme! Non ci credo! Che succede? È gigante! Posso averlo? No! Non se ne parla! È mio! E ora scusa ma devo mangiarmelo! Uffa! In effetti però io la torta non gliel'ho fatta assaggiare! Wow! Che succede? Cos'è? Un altro? Continuano a uscire? Abbiamo un foglio! Oh! Sta succedendo qualcosa! Di nuovo la magia! Guarda! Un cono gelato! Che carino! E sembra pure buono! Ne vorrei uno vero! Uh! Non scherziamo! Fammi vedere qui! Stavolta ci divertiamo! Oh! Di nuovo senza mani! Che pizza! Ok! Una mano e un pennello! Pronta a intingerlo nella vernice! Penso che inizierò con il rosso! Mmm! Dipingerò questo gelato! Mi divertirò! Sto solo facendo puntini con diversi colori sul disegno! Rosso, giallo, blu e soprattutto bianco! E ora aggiungo dell'acqua e lascio che si mescolino! Ah! Guardala come dipinge! Dovrei iniziare anche io! Direi che devo per forza usare la bocca! Posso farcela? Sì! Ok! Devo fare dei pallini sul foglio! E ora mi serve questo colore! Oh! Se ne metto un po' qui! Oh! Oh no! Sta venendo bruttissimo! Beh! Direi che mi presento con questo! Ta-da! Almeno è colorato! È comunque un vantaggio, no? Ho finito il cono, visto? La tecnica che ho usato è uscita benissimo! La adoro! Wow! Si è trasformato in un vero gelato! Proprio come speravamo! Assomiglia molto anche al cono gelato che ho dipinto! È ora di assaggiare! Spero sia buono! Lo è! È molto buono! Non scommetto che anche tu vorresti avere un cono gelato! Cosa pensi che riceveremo stavolta? È così emozionante! Oddio! Guarda! È una ranocchia carinissima! Guarda come saltella è in giro! Beh! Direi che farò la mia opera d'arte con la ranocchia! Wow! Anche io! Adoro le ranocchie! Fammi preparare il foglio! E vai! Stavolta due mani! E tu una! Userò questo pennarello dalla punta fina stavolta! Inizio facendo due mezzi cuori così! E li collego sotto così! E poi sopra con un arco! Guarda che ditine carine! Adorabili! Disegno gli occhi così inizio a colorarla! Devo usare il verde ovviamente come ogni rana che si rispetti! Ah! Ora posso usare due mani e lo farò! Dovrei essere in grado di andare due volte più veloce perché beh, due mani! Sta venendo fuori benissimo! Questa è una strategia fantastica! Aveva ragione sulle piccole dita delle mani e dei piedi! Quelle sono sicuramente carinissime! Ok, il contorno è finito e ora coloriamo! Sta decisamente venendo carinissima e ci vuole poco! Anche se forse non benissimo! Devo andare più veloce! Wow! Esce fumo! Aaaaaaah! Fu fu fu! Ma che diamine! Come hai fatto ad appiccare un incendio laggiù? Beh! Bene! Credo di aver finito col mio disegno di ranocchio! Mi sa che stavo colorando troppo veloce! Beh! La mia ranocchia non ha preso fuoco! Eccola qua! Non è carinissima! Oh! Ma questa è una ranocchia di gelatina! Forse è uscita dal mio bellissimo disegno! E ora shakerò il foglio! Shake! Hihi! Wow! Quante rane! Oh mio Dio! Che odorino di melone! Questa la prende a morsi! Non posso più aspettare! Wow! È ottima! Adoro le caramelle gommose! Wow! Ma che diavolo fai? Te li stai divorando! No! Mi piacciono troppo per andare più piano! Vediamo un po'! Wow! Hai visto? Ne ho uno anch'io! Ma il mio ha i colori dell'arcobaleno! Guarda! Il mio si può mangiare! Davvero! Che bello! Beato te! Chissà, mi darà mai il suo cuore? Ma no, che dico? Meglio che assaggi il mio! Senza farmi chissà quali film! Sembra buonissimo! Oh! Ma è di gomma! Non si mangia! Oh! Non riesco neanche a tirarlo! Niente! Non è da mangiare! Che delusione! Almeno posso giocarci però! Non riesco a divertirmi come vorrei! Oh! Che faccino triste che ha! Devo fare qualcosa! Psst! Ehi! Guarda qui! Vuoi un pezzetto del mio cuore? Sì! Magari! Grazie mille! Uh! Si spezza così facilmente! Oh! Guarda adesso com'è contenta! Sono felice di averlo condiviso con lei e averla resa felice! Buonissimo! Ne voglio ancora un po'! Wow! Un momento! Meglio che controlli allo specchio il tuo nuovo look! Nuovo look? Che vuoi dire? Oh mio Dio! Adesso anche tu sei bianca e nera come me! Siamo uguali! Tu dici? Saremmo proprio una bella coppia! Dai! Mi sento molto fortunato a questo giro! Aspetta! Non così in fretta! Apriamolo insieme! Tre! Due! E uno! Sì! Latte e biscotti! Come piace a me! Mmm! Che delizia! Ehi! Non mi hai aspettato! A che maniere! Oh! Favolevole aprissimo insieme! Sì! Sì! Bla bla bla! Anch'io ho qualcosa di buono! Macaronne e succo! Che bei colori! Ma chi li vuole i dolcetti arcobaleno? Biscotti al cioccolato e latte sono imbattibili! Cioccolato e latte nero e bianco! Oh! Mi hai davvero spezzato il cuore! Oh! Nessuno può permettersi di insultare i miei biscottini! Allora sai che ti dico? I tuoi biscotti fanno schifo! Oh! Questo non dovevi dirlo! Fatti sotto se hai coraggio! Fatti sotto tu! Allora prova a fare questo! E quella sarebbe una grande mossa, un gioco da ragazzi! Ok! Ecco la mia mossa super segreta! Prendi questo! Ah! Mossa super segreta? Oh! Sei impossibile! Non spreco più le mie mosse con te! Aspetta un attimo! Ma certo! So come vincere! Ho qui la mia arma! Ehi! Scusa! Un'ultima cosa! Oh! Hai un biscotto bello o un macaron? Bene bene! La crema è tutta da un lato! Voilà! Massima precisione! Tutto qui! Niente di speciale! Guarda! Oh no! Il mio macaron si è sbriciolato tutto! Ah! Il tuo macaron non è sopravvissuto alla mia mossa! No! Non è vero! Guarda! Ci riuscirò! Aspetta! Ne ho altri! Ci riprovo! No! Si sono sbriciolati tutti quanti! Così impari! Ti avevo detto che avrei vinto io! E adesso il mio premio! Inzuppiamo alla grande! Che bontà! Che bontà! Niente può batterli! Ah! Favolosi i biscotti e il latte! Ok! Ma anche i miei saranno buonissimi! Ormai non ho scelta! Devo assaggiarli! E invece niente! Con il liquido si sbriciolano ancora di più! Forza! È ora di una nuova sfida! Vuoi aprire tu stavolta? No dai! Fallo tu! Dici sul serio? Che onore! Non vedevo l'ora! Non ci credo! Wow! Ma di qua hai visto? Una torta intera! E sopra ci sono biscotti e ciambelle tutte intere! Non è incredibile! Sai cosa? Mi ci tuffo subito! Wow! Forse è la cosa più buona che abbia mai mangiato! Sì, in effetti anche vista da qui non sembra male! Non riesco a smettere! Wow! Te la sei pappata in un batter d'occhio! Vediamo che ho io! Wow! Anch'io ho una torta! Con ciambelle e caramelle! Ci sono anche i marshmallow! Praticamente una festa di dolcetti buonissimi! Scommetto che sarà anche più buona della sua! Con quel cucchiaino ci metterà un'eternità! Forse la aiuto? Ok, mentre non guarda me ne prendo un bel pezzo! Ecco qui! Sembra proprio buona! Non si accorta di niente! Tutto un bel boccone! E adesso ancora un po'! Ma... E' questo? Qui manca un pezzo enorme! Credo di sapere chi è stato! Ehi! Che ti salta in mente? Io rubarti la torta? No! Pazienza! Intanto mangio uno di questi! Adoro i marshmallow! Che dolcezza! Sembra proprio gustoso! Prendo appena un pezzettino da qui! Dai! Sì! Vieni qui che ti mangio! Che cos'è questo rumore? Ehi! Non ci credo! Ti sei rubato metà della mia torta! Oh? Io? Ma che dici? Non sono stato io! Non lo farei mai! Mi conosci giuro! Giori? I tuoi denti ti tradiscono! E cosa? In che senso? Ecco, guarda, ladro di torte! Ah, visto! Te l'avevo detto! Che facciamo? Prima tu o prima io? Giochiamo a sasso carta forbici per decidere! Ok, ci sto! Sasso carta forbici! Sì, ho vinto! Tocca a me! Vediamo che cosa ho! Ah! Non hai proprio un bel niente! Ah! Lo dico io a te! Anche il tuo piatto è vuoto! Ci sarà un trucco? Controlliamo sotto! Oh, niente di niente! È possibile che sia questa la sfida! Oh, hai visto! Questo hamburger è spuntato dal nulla! È giusto in tempo! Sto morendo di fame! Un hamburger ci vuole proprio dopo tutti quei dolci! Mmm, davvero molto buono! Dai, su! Anch'io voglio un hamburger! Oh, hai visto? Sì! Ha funzionato anche con me! Che carino il mio hamburger tutto colorato! Vediamo se oltre che bello è anche buono! Mmm, certo è un hamburger! Ehi, pensi anche tu quello che penso io! Oh? Sì, sì, ho capito! Forza, tavolo magico! Dacci altro cibo! Dai, dai! Oh, non funziona più! La magia è finita! Forse poteva succedere solo una volta! Abbiamo fatto del nostro meglio! Aiuto, che succede? Il terremoto! Guarda! Tutti gli hamburger del mondo! Acchiappali! È un sogno! Ce n'è in abbondanza per tutti e due! Eccone uno! Preso! Ce n'è un altro! Direi che me la sto cavando alla grande! Uno per me e un altro! Magari piovessero hamburger tutti i giorni! Ehi, prendi questo! Ehi, così non vale! Ecco l'ultimo tutto per me! Uno più buono dell'altra! Ah, sto scoppiando! Da me continuano a piovere! Forse posso farli smettere? No, basta! Ho detto aiuto! Ehi, basta! È letteralmente sommerso di hamburger! Oh no, ormai è andato! Tranquilla! Ce l'ho fatta! Ma per un bel po' di tempo non voglio più vedere hamburger! Siamo pronti? Apriamoli insieme! Ma è un mucchio di... cucchiaini! Guarda qua! Ho del gelato bianco e nero! Tutto per me! Però... Un momento! Ehi, non ho le posate! Se solo avessi qualcosa per aiutarti... Ma certo, i cucchiaini li hai tu! È un sacco! Non se la prenderà se ne uso uno! No! Giù le mani, mio caro! Questi cucchiaini sono miei e sono miei! E va bene! Senti, ti do questo gelato in cambio di un cucchiaino! Sembra un affarone! Ci sto! Ecco il gelato! Come d'accordi! Ci sei cascata! Questo me lo riprendo! Ma no, che fai? Spiacente per un gelato questo e altro! Sei cattivo! Ah, ho vinto! Basta piagnocolare! Ehi, dovresti dare un'occhiata al tuo cucchiaino! Perché ti si sta tipo sciogliendo in mano, sai? Oh? Si è trasformato in un sorbetto! No, ma io volevo il gelato bianco e nero! E ho anche la mano appiccicosa! Non capisco perché ti lamenti, adesso è persino più buono! Sì, come no! Beh, non posso lamentarmi, tutti i cucchiaini sono commestibili! E non mi serve il cucchiaio per mangiare il gelato! Mmm, che buono! E ora giriamo la ruota! Mettiamoci al lavoro! Ok, sarà epica! Inizio con questa bottiglia di soda, ovviamente, e devo aprirla! Au! Ma che succede? Hai detto qualcosa? Ehi! Oh! Ops! Colpa mia! E ora svuoto le bottiglie! E ora gelatina! Sennò come faccio a renderla gommosa? Ho riscaldato al microonde, ora aggiungo gli orsetti! E poi ci metto caramelle e bastoncini! E ora tutto in freezer! Guarda il mio capolavoro gommoso, sono uscite benissimo! Matthew, non posso credere che mi hai fatto questo! Andai, calma, titina! Ehi! Cosa? Ma ora non ho più tempo di fare nulla! Aspetta un secondo, credo di poter fare qualcosa con questo orsetto gommoso! Forza, una bella pompata d'aria, aiutami a vincere! E vai, ha funzionato, proprio come pensavo! Sono pronta! Vediamo cosa abbiamo qui! Non saprei scegliere, quindi entrambi un punto! Uh-huh! Uh-huh! E vai, troppo bello! Non vedo l'ora di assaggiarlo, sembra buonissimo! Do un bel morso! Oh! Oh, certo! L'ho riempito d'aria! Aia! Vuoi un pezzo del mio? No, grazie! Hai intenzione di flirtare tutto il giorno con quel cavallo? Ecco, prendo la situazione in mano! Hmm, cosa è stato? Non l'avete capito? La prossima sfida è a base di latte! Oh, latte! Certo! Ci ha fissato per tutto questo tempo! Hmm, cosa farò con il latte? Bene, penso di aver elaborato la formula chimica corretta con le misure giuste! Ho il mio reagente, il mio latte e il mio bicchiere! Che strano! Oh, era un buon Martini al latte! E il bicchiere di Martini! Mi ha dato un'ottima idea! Intingo giusto il bordo nel cioccolato bianco sciolto! E poi nelle codette! Guarda come si attaccano bene! Dovrebbe bastare! E ora lo metto in piedi! E poi ovviamente è ora di metterci il latte! Guarda qua! Sì, sta andando come speravo! Cioè, come avevo programmato! Un arcobaleno di latte, perfetto per la sfida degli unicorni! Ah! Dovrebbe essere la quantità perfetta di latte da versare nel mio bicchiere di malto! E poi il reagente! Questo è tutto! Il tempo è scaduto, miei concorrenti unicorni! Oh no, non ho finito ancora! Ecco, questo è quello che ho fatto, signor unicorno! Spero le piaccia! Ok, vediamo cosa abbiamo qui! È chiaro chi è il vincitore! Tina e il suo latte arcobaleno! Ho vinto! E vai! Molto bello! Tina, posso assaggiare il tuo drink? Ma certo! Grazie, ecco qua! Wow! Ehi, vuoi provare il mio? Ehm, non credo, no! Grazie! Bene! È arrivata l'ora della prossima sfida! Cosa abbiamo qui? Un gigantesco pop-it! Magnifico! Non ne ho mai visto uno così grande! Non ci credo, piovono pop-it! Dammeli, tutti i miei! Pop-it, davvero! Beh, sembra che Tina si stia divertendo! Potrei unirmi a lei! Pop-it, certo! È ora di riportare i miei fidati orsetti gommosi, che finora non mi hanno deluso! Li metto nei buchi del pop-it! E ora faccio calore con il phon! Uh, adoro guardarli mentre si sciolgono, è così bello e anche un po' inquietante! Eccoci, sono tutti sciolti e riempiono tutto lo stampo! Quando si è asciugato un po', possiamo tirarlo fuori! Tada! Sono abbastanza orgoglioso di me e per il risultato! E tu, Tina? Uh, è davvero finita nella tana del lupo? Forse dovrei dire nella tana dell'unicorno! Vediamo se riesco a distrarla! Tina! Non vedi che sono impegnata a non darmi fastidio! Ecco qua, è scaduto il tempo! E ok, io ho fatto questo orsetto di gomma nel pop-it! Cos'è questo? Tina non ha fatto niente, Tina! Pop-it! Ok, d'accordo, direi che stavolta vince Matthew! Sì, ho un altro punto sul tabellone! E ora mi prendo un po' del mio orso! Buono questo pop-it! Cioè, orsetto di gomma! Ehi, dammelo! Non ho mai visto una cosa del genere prima d'ora! È divertente! Mattina non è... Lascia stare! Il prossimo scontro è proprio qui, tra le mie mani! Una bevanda! E hop! Stavolta non lascerò che vinca Matthew! Mi scusi, signora! Ma che... Grazie! Che dolce! Vai avanti tu! Ehi, ragazzo! Bello il cono gelato che è proprio lì! Il mio gelato! Oh! Ecco! Prendi questo peluche di unicorno e sarai il tuo migliore amico! Ok, sono tornata prima che il gelato si sciolga! E no, Matthew, stavolta non lo lascio proprio vincere! Ok, ecco qua! Questo succo d'arancia non mi serve! Questo bicchiere è perfetto per tutte le mie caramelle! Ups! Me ne sono rovesciato un po' sulla maglietta! Strofino un po' e dovrei risolvere! E ora riempio il bicchiere e poi lo facciamo squagliare, ovvio! E ora che hanno finito è come un arcobaleno in un bicchiere! Ah, va bene! Il mio gelato batterà la tua bevanda! E ora il gelato finisce nella ciotola ed è il momento di sciogliersi! Per fortuna oggi è caldo fuori! Ora devo solo aggiungere un po' di amido di mais al gelato sciolto! Mescolato insieme diventa un impasto che posso lavorare un po' e posso arrotolarlo in una pallina di pasta minuscola! Che carino! Eccoci! Sono nel bicchiere con del ghiaccio e ora momento effervescenza! Effervescenza all'arancia! Ecco qua! Wow, questa sì che è una bevanda rinfrescante! Meglio assaggiarla per capire se è buona! Comunque vincerò di sicuro! Oh, hai finito! Certo! Oddio, chi sceglierà come vincitore questa volta? Non lo so, sembrano entrambi fantastici! Un punto ciascuno! Ecco sì! Oh, ahem! Beh, volete assaggiare l'uno la bevanda dell'altra? Sì, perché no? Oh, che bella cannuccia! Wow, Tina! Ma è buonissimo! Sono dell'umore giusto per delle caramelle da quando quel palloncino mi esplosi in faccia! È davvero buono, Matthew! Prossima sfida! Ok, una ciambella! Al lavoro! Uh, amo le ciambelle! La rimetto dove l'ho presa! Iniziamo a cucinare! Sì, signore! Va bene, ci deve essere qualcosa a contorno che posso usare! Il mio mestolo! Aspetta, no, non è quello che volevo! Una banana? No, nemmeno quella! Ok, inizierò con questi cereali! Le ciambelline di frutta sono le migliori, sì! E ora un po' di poteri da unicorno! E-ha! Bello! Ora voglio che assomigli di più a quello della sua bocca! Con della maionese dovrei farcela! Io? Ma che pensa, Tina! Oh sì, questa sì che è una ciambella di cui posso essere fiera! Devo mettermi al lavoro! Sarà facile batterla! Che bello che ho queste caramelle giganti e questa salsiera! Ma questa volta niente salsa, è solo caramelle! E vai, bellissima! E ora sciogliamo tutto! Perfetto! E ora è il momento di versare tutto negli stampi! Come dimenticare gli altri colori! Gli unicorni hanno bisogno di arcobaleni! Ok, sono pieni! E ora che si sono asciugati posso tirarli fuori! Oh, come sono carini! E ora in un altro stampo! Devo solo metterceli tutti e poi riempire gli stampi con la gelatina! E ora che si è solidificata è pronto per essere tagliato a fettine! Oh, guarda qua! Una bella ciambella per me! Tina, che ne pensi della mia ciambella, invidiosa? Ah, tu e le tue stupide gelatine! Lo sapevo, sei invidiosa! Vabbè! Io gareggio per vincere! Ok, parola al giudice adesso! Vediamo, questa è... Maionese! Voilà! Oh, ma questa è piena di caramelle e gelatine! Beh, mi pare chiaro chi vince questa! Matthew! Sto vincendo io! Questa è la prossima sfida! Iniziamo! Ah, cosa? Non avete capito? Fate una torta! Usate anche i waffle se volete! Ok, ora sì che si ragiona! Sì, beh, tutto ciò di cui ho bisogno sono questi waffle e della panna montata! Ah? Che diamine! Non è rimasto nulla! Come può essere? Wow, forse non avresti dovuto mangiarne così tanto prima! Ovviamente viaggio sempre con la mia mini macchina per waffle portatile! In questo modo posso anche fare dei waffle colorati! Eccoci, sono tutti i colori che ho! È ora di cucinare! Poi metto un po' di panna montata in mezzo e il gioco è fatto! Anzi, ce ne metto anche un po' sopra! Sì, una bella spirale! Bella, eh? Uh, forse dovrei aggiungere anche una fragola! È bellissima e potrebbe anche starci bene una bella manciata di frutti di bosco, perché no? Oh! Guarda questa torre deliziosa che ha costruito! Wow! Oh, la mia è patetica in confronto alla sua! Accidenti! Beh, che ci posso fare? Ehi, so cosa fare! Tina non è ancora perso! Forse non so fare una bella torre per waffle, ma... Ma ho la mia adorabile morbida torta unicorno! Pronti per il verdetto finale? Hm, vincete di nuovo entrambi! Sì, un altro punto da aggiungere al totale! Sapevo che avrebbe funzionato! Questa torre di waffle è ancora più buona di come me la immaginavo! Certo, senza ombra di dubbio! Ehi, posso assaggiare la tua torta? Cosa? Oh no, non sono sicura sia venuta buona! Ma dai, stai solo facendo la modesta! Fammi dare un morso! Matthew! Basta! Non ti preoccupare, ne prendo giusto un piccolo morso! No! Aia! Ma è finta, è giocattolo! Ha imbrogliato! Ha imbrogliato! È contro il codice degli unicorni! Un punto in meno attina! Ah, non è giusto! Ti ho detto che non dovevi assaggiare! Quale di queste sfide in cucina ti piacerebbe provare? Faccelo sapere nei commenti! Non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo!